Temptation Island. Lino attacca Martina, botta e risposta. Ciao a tutti e grazie per essere tornati nel canale. Temptation Island è da poco terminata e Alessia e Lino continuano a scontrarsi sui social. Interviene Alessia per difendere Martina. Cos'è successo? Lino e Alessia sono stati i due più chiacchierati in assoluto. A scrivere al programma è stata Alessia, esasperata dalle continue mancanze di rispetto e di attenzioni del fidanzato. Lino subito dopo il suo ingresso nel villaggio, ha instaurato un feeling con la single Maika. Continua il botta e risposta tra Lino e Alessia. Lino negli ultimi giorni ha condiviso un video contro Martina, l'ormai ex fidanzata di Raul. A suo avviso la ragazza si è lasciata andare a parole troppo forti nei suoi confronti, non considerando ciò che lei invece stava facendo con Carlo. Dopo questo video, è intervenuta Alessia. Quest'ultima è diventata molto amica di Martina, e per questo l'ha subito difesa. Alessia ha dichiarato che secondo lei Lino ha attaccato Martina solo perché è molto vicina a lei. Anche Gaia aveva parlato male di lui, ma visto che le due non sono così intime, si è appellato solo su Martina. Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due? E tu, cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. Scriviti al canale per restare sempre aggiornato.